Oggi sono molto contento quando entra e segnalo due gols con la mia squadra. Sono contento per segnalare due gols quando entra. È molto bello, il primo gol. È per il mio amico. Il primo gol è per il mio amico. Io sono contento. In questa stagione voglio arrivare a 25 gol. Manca un po'. Adesso c'è 12 gol. Io voglio arrivare a 25 gol in questa stagione. Sì, io sono molto contento. Ma anche questa squadra gioca bene. Ma io sono molto contento quando entra e segnalo due gol dopo la qualità per la prima stagione. Sono molto contento.